Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Traffica al momento regolare sulla rete autostradale regionale. Infipili rallentamenti per un veicolo fermo o in avaria tra Montelupo e Ginestra nella carreggiata verso Firenze. Verso Pisa resta una coda di due chilometri per lavori tra Gello e Navacchio-Visignano e rallentamenti ancora una volta per cantieri tra San Miniato e Santa Croce. Uno sguardo alle statali sull'Aurelia a scambio di carreggiata fino al 3 agosto per lavori di pavimentazione tra i chilometri 165 e 164 tra Fonte Blanda e Alberese. Ci spostiamo sulla SR 66 Pistoiese dove troviamo senso unico di marcia verso Firenze per cantieri all'altezza del chilometro 17 nel comune di Campi Bisenzio. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!